saluti e ben accattato su in noasa su gazzettino sardo in sardo dei canali 40 biezo o indiri giovia 24 del su mesi di gennaio ita accontessili fura dei slot machine cattodici assagorra con cattodici misura sa decustodia cautelare a cabbanta e maravaina sa dessa trumaghi da di ora mera vi era ponendo istrobo sa vita dei sbottecherisi de garbonia e de sargiola dotto con fura sa manarmara che esagenzia sa di assicurazioni ma fina sa addolo de ischi incascianta su dinari de slot machine e meni domo su de privato su puro ischi rabinieri si desagittari tra ballen di baresi con si squadra cinofila de castello appustisi de faina sa desinchista slot machine chiari principi a un meso del 2006 anti arrestato ischi si bensanta sianta i socios o disorganizzazioni criminali responsabili de vura porte arma abusivo ricettazioni e meleccias i malidenti su vunti totus omenisi de carbonia intre biventisi de etnia sarda e biventisi de etnia rom e moi sagattanta me impresioni o accorrauso in domo su barzolo in sardinia esti sboiro alarma in sardinia pro nascimento sughi non due vunti su socio italiano de pediatria ghettara sagrida pro itac insu dosu milenegiotto ispi pius sughi antibio salugi pro sabrimubiame insisula vunti pro spago de decimilasa in su dosu milendoge viantabruso de tre decimilasa numero sughi bonintis espertosa scimbellasa e esistituzionis e socios de di ora i studianta su problema pro historrara saghiarappori sufriri su territorio po gustu su primo de su mesi de viaggio do iaressi un attobio conferencia entre specialistas espertoso dessa politica sanitaria che sa fondazione sardinia sa sardinia di fattisi di estainantisi dedotto su irregionisi desse Stato italiano in conto da smengua dei nascerasa un fenomeno che esse prigara a manera clara mera adotto esse estrobus usufriuso dai sarduso in conto da economia e calidade dessa vida estrobuso che assavarta de suo traballo e subretio troppo alto dessa vida a chi ha subruz e pruso moventi sa gente a disterrai o alassai sa ganna depesai famiglia sa santo gianni su ergio in circa de volontari su a settiara sa irregola sanosa immo isabetta andai schiantavoli pigai parti a su corpusu dessa protezione civili basta rappresentare sa domanda che su comunu o chi da sara scioverai conforma insetti su pigausu de su consilu comunali a naida e sa zindiga il virusai esti necessario personali formau antes si dedotto su mavinasa de volontari su no e dusu gisanta fainai menis fainasa de su gendro operatori de su comunu si struttura ghi attendiri a averai e coordina i fainasa de appretto chi vattu vattu si presentan ta mescamenti con su tempus umano o insistali con isifogus atrosu traballosu de manutenitura e smanio de logosu de esainasa e vetturas a disponimento duso vunti volendo a fai grazie a sfinanziamento su de sugnone dei comuni imprusu sempre s'amministrazione comunale a rascioverau sa zio no a chiaressi a che sex centro antinsetti ma inizimperas aias sa zirriara de su sindacao sa regioni usb su sindacao de base gettara unu zerri poche sa iscondizioni si chi straballadores i aias avunti zigen da soffriri e non intama sassandala trastigiara sa vina ai moi sa bellea sighiri e i straballadores i strumbulli antassare regioni conduna litera a incarara sassessori a sa sanità di luigi arru ea su direttori de sa tiese moirano prochi sallestri sa tramura a sa sdomusu sa zienda noa chiara rimprazzai aia strocia dai safariu su poita non paga iera salvendi isoccupausu insudottusu men sa litera su sb a parara i scundizionisi dei straballadores i gifunti abettendi già i decimesisi de pagasa e remonara sattopio de marzo duzumile de giotto a che su prefetto menui straballadores iantarricciu sabromissa de totto isarretraru su nara la salvatore drago rappresentanti usb in serradura anco averinti appizzuto de su respetto de gustusu accordiusu e ventusua ingiruo e indiri giovia bintiquattrume in Sant'Antiogo a che sa sala i suffetti in prazza de gasperi doia resi sattopio approntao dai su guomitau riconversione poa regionai appizzuto dessa chistioni rvm effetto dei faina sa deprodusidura in su territorio sa produsida de bombasa e su sfroso dessa lei 195-90 imprusu sul recorso a che su tar antesi a su gentru de sa dibatta grazie a vos sigiri noas in cruzu avarrai in paresi gunnosu proese edizionisi in benientisi as intendi riluegus in canali coranta adiosu